Dunque, è la seconda volta che vengo qui a Roma in Elis con Pietro Popov, ci siamo incontrati svariate volte, forse una decina di volte e credo di essermi fatto un'idea abbastanza precisa di quello che Elis fa, non vorrei riraccontarvi, lo sapete meglio di me, ma quello che mi colpisce molto è questa capacità di trovare il potenziale, il talento di questi ragazzi e di dargli un ambito in cui lo possono sviluppare al massimo. Vedo veramente molte energie e vedo un potenziale che si trasforma in qualcosa di concreto e questa è la cosa più importante di tutte. Snam è un partner di Elis, per quanto abbiamo già fatto molte cose insieme siamo all'inizio di questo percorso e conto che Snam sempre di più diventi un partner per usare queste energie che si creano in Elis e portarle all'interno della nostra azienda e sfruttarle al massimo e continuare questo percorso di sviluppo. Elis creo che sia un punto di partenza, invece l'azienda può essere poi una parte più lunga del percorso che è quello del lavoro.